Questa è la settimana dedicata ai festeggiamenti del 45esimo anniversario dello stabilimento Michelin di Spinetta Marengo in provincia di Alessandria che è anche lo stabilimento Michelin più grande d'Italia per la produzione di gomme per autocari. Per festeggiare il suo 45esimo compleanno lo stabilimento Michelin ha deciso di fare una grande sorpresa i suoi mille dipendenti, ha chiesto al grande chef Due Stelle Michelin Antonino Cannavaciuolo di abbandonare il suo ristorante Villa Crespi sul Lago d'Orta per un giorno per essere in mensa con i dipendenti Michelin a cucinare i suoi famosi piatti. E la new entry di MasterChef con i suoi otto cuochi ha preparato un risotto al timo, limone e vongole come primo e poi come dolce una coda da ragosta con una speciale sfoglia napoletana. Con l'intervento di Cannavaciuolo la Michelin ha dimostrato di saperci fare nello stabilire un rapporto validissimo con i dipendenti che a questo punto si sentono sempre molto motivati e coccolati da un'azienda che come consuetudine anche in questo fine settimana aprirà le porte per una visita dedicata a dipendenti, famiglie e amici che potranno visitare le parti di fabbricazione e vivere una giornata tutti insieme e come consuetudine almeno saranno 3000 persone a visitare lo stabilimento.